Siamo a Iesolo con il campione Dennis Ohler, benvenuti in Iesolo, sei tornato dopo il 2021 il vincitore della Champions Cup, è l'operatore offizionale che è il colore della Champions Cup ora sei qui per le 24 ore, sei l'operatore che inizia la gara, inizia la gara con il sole ma ora è un pochino, preferisci la gara, preferisci le condizioni secche, qual'è la tua sensazione? Ciao a tutti, per essere sincero, preferisco le condizioni secche, la squadra è diventata in due direzioni i ragazzi dicono che vogliamo avere la gara e preferisco la gara secche, quindi per noi non importa dobbiamo prenderlo come sia, ma quando la gara viene, siamo sicuramente preparati E allora, una parte del team vuole la pioggia, una parte del team vuole l'asciutto e comunque Dennis, davvero campione, dice qualunque cosa venga, sono pronto per accettarla mi preparerò per effettuare i miei stinti nel migliore modo possibile Grazie Dennis, ci vediamo alla Champions Cup Ci vediamo in tre setti per la seconda Champions Cup Ciao! Ciao!